il leader ivi asterisco al pd faccio in bocca al lupo ma su tasse sbaglia i 5 stelle vanno sparendo sono finiti hanno raccontato alcune cose poi hanno fatto il contrario sulla tav sulle olimpiadi ora di maio ha chiesto scusa sulla giustizia ha detto che avevano sbagliato tra qualche anno diranno che hanno sbagliato su draghi così matteo renzi a stasera italia quanto alle dichiarazioni di stasera di giuseppe conte commenta frasi fatte parliamo piuttosto di cose concrete che si fa sulla giustizia sempre su conte avevamo bisogno di uno più bravo e draghi e meglio di conte l'italia è ripartita e solo questo mi interessa ha aggiunto ci sono stati due momenti in cui due persone hanno esagerato con i pieni poteri salvini nel 2019 e conte nel 2021 e io ho cercato di mandarli a casa ha affermato ancora a enrico letta faccio l'augurio di in bocca al lupo nonostante le opinioni diverse tra noi come sulla tasse ci conosciamo da anni e sia io che lui sappiamo bene come sono andate le cose ha detto poi renzi spero che ce la faccia so per esperienza che il suo non non è un lavoro semplice ha aggiunto sulle proposte avanzate da letta su alcune cose sono d'accordo ho molto apprezzato la battaglia sulle donne anche se poi vedo tutti uomini candidati dal pd unica speranza è bologna dove si confrontano matteo lepore e isabella conti insiste sul tema dei diritti ma ho l'impressione che sia una battaglia più identitaria e poi sono profondamente in disaccordo sulle tasse con letta avevo già litigato nel 2013 quando da premier alzò l'iva e anche oggi dico che è un errore alzare la tasse tutte le tasse tranne quella ai giganti del web come ha detto draghi è il momento di dare su una federazione di centro-sinistra si sta parlando del sesso degli angeli al momento noi abbiamo un paese che sta ripartendo di fronte a questo clima avrebbe senso dare una mano a draghi da qui all'elezione del presidente della repubblica evitiamo pasticci grazie a tutti grazie a tutti